Un altro successo che fa rima con solidarietà. Le cene del Comitato di Varese e della Croce Rossa sono un appuntamento che da molti anni riunisce e aggrega centinaia di persone, attivisti, cittadini che vedono nel marchio CRI una garanzia di impegno a favore di chi ha bisogno. È accaduto anche sabato sera nella sede di Via Dunant, dove il convivio organizzato per raccogliere fondi a favore delle tante attività che caratterizzano il sodalizio, i suoi operatori, i suoi volontari, ha visto cenare in presenza 80 persone. Altre 140 porzioni sono state invece acquistate per l'asporto, coprotagoniste accanto alle giacche bianco-rosse della Croce Rossa, le penne nere degli infaticabili alpini.